Il principe William ha parlato candidamente di come sostiene la propria salute mentale in un nuovo tour audio a piedi per Apple, e William ha rivelato il toccante passatempo che ora ha trasmesso ai suoi tre figli, il principe William ha a lungo sostenuto l'importanza di una buona salute mentale e, alla luce di ciò, il futuro re ha registrato uno speciale tour audio Time to Walk con Apple. . Durante l'audio tour, William ha rivelato agli ascoltatori quanto sia importante per lui la musica e come ha trasmesso il passatempo ai suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, l'audio tour Time to Walk del principe William sarà trasmesso in streaming tre volte gratuitamente lunedì 6 dicembre su Apple Music 1, la stazione radio globale di Apple Music. . William dovrebbe rivelare diverse storie personali durante il tour, che è stato registrato durante una passeggiata nella tenuta della regina Sandringham nel Norfolk. Il duca di Cambridge ha incluso tre delle sue canzoni preferite nell'intervista senza precedenti, per far camminare le persone per la loro salute mentale. E William parla anche in dettaglio dell'amore per la musica suo e dei suoi tre figli, in particolare per quanto riguarda sua figlia, la principessa Charlotte. William ha detto durante il tour audio, una delle canzoni che i bambini amano in questo momento è Shakira, Waka Waka. Ci sono molti movimenti dell'anca che vanno di pari passo con un sacco di travestimenti. Charlotte in particolare sta correndo per la cucina, nei suoi vestiti e roba da balletto. Impazzisce completamente con Louis che la segue in giro cercando di fare la stessa cosa. Durante il tour, William si è detto stupito di come i suoi figli abbiano ereditato l'amore per la musica della sua famiglia, una passione nota per essere condivisa da diversi reali, tra cui il principe Carlo. William ha aggiunto che la maggior parte delle mattine c'è una massiccia lotta tra Charlotte e George su quale canzone viene suonata al mattino.